ok ragazzi siamo tornati qua su braun stars allora oggi ho visto che io mi sono accumulato queste offerte però prima di aprile facciamo una bulla e sopra me solo con bulla poi facciamo anche un'altra partita in tutti gli altri account che ho e poi avremo alla fine queste ricompense che mi sono accumulati via ragazzi iniziamo subito perché raga ho molta fretta oggi quindi non ho tutto il giorno e quindi muoviamoci ok oh ragazzi c'è un altro bull no ragazzi porca miseria vabbè male ragazzi dai riproviamoci prego non giocavo con bulla no vabbè ho utilizzato il nuovo bull vabbè ragazzi ho sbagliato e tu poi che intenzione che intenzione di fare boh ok forse la cosa portate avanti un po' meglio ragazzi siamo nascosti qua ragazzi c'è berri oh porca miseria c'è un buon rara con le paura oh no oh no porca miseria oh c'è cascato c'è cascato raga vabbè raga sono dei tuoi palli delle palle dei pallini dei colpi di stecca ho sentito qua ecco raga stecca lì sotto ecco raga ecco raga Vieni ragazzi una omo, 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 omo Nooo, per pochissimo Porca miseria Partire, ragazzi, un po' stella Il pulo va bene, va bene, va bene, va bene Allora, ragazzi Perfetto Abbiamo fatto qua, su questo account Oppure, ragazzi, ne facciamo un'altra, eh Che dite? Dai ragazzi, facciamone un'altra E poi, ragazzi, ovviamente vado e aprirò tutto 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 Perché, ragazzi, sono arrabbiato perfettamente perché io non No, vabbè, ragazzi, fammi è tosto da uccidere, porca miseria Porca miseria Mi riparo qua dietro Ho tutto il bitto però che lo uccide Pam, mori, se è fatta Porca miseria Ma è morta raga, è morta, è morta Oh no, oh no, ho tutto il bitto Scasco To bit forse ma raga mi sei teletrasportato schifoso farò ucciderlo no 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 raga è fortissimo mi è lontano no 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 aiuto no no porca miseria e che ce l'ho fatta tutta vabbè vabbè ragazzi io mi arrendo vabbè bene ora andiamo su tutti gli altri account e riscattiamo tutto soprattutto qui andiamo qua perchè ragazzi da quell'account dove devo riscattare ovviamente ecco così e così perfetto raga c'è un amico che gioca e vediamo si ragazzi andiamo nell'altro account adesso andiamo in questo adesso andiamo in questo magari Yoshi e no raga l'ho chiamato a casa tipo questo vabbè vabbè ok mettiamo le ricompense e mettiamo le ricompense nell'acqua anche qua riscattiamo tutto anche ora questo è l'ultimo raga questo è l'ultimo oh porca miseria spero che forse è l'ultimo che forse anche qua raga cosa da riscattare vediamo un po' ok fatto ora andiamo a riscattare ovviamente le ricompense che mi sono tenuto io via raga abbiamo solamente una cassa per me con un bel bottone non è un boccone solo due e raga 2 non trovo mai niente raga 2 vabbè comunque ci questo video spero che raga vi sia piaciuto su questo dato compagno altri video di brawl stars se volete vedere altri video se ci metti che ci metti il video allora poi ci metti e raga ci vediamo in prossimo video ciao ragazzi ciao ciao